La questione della censura su Facebook e su Twitter è un argomento estremamente complesso. Prima di tutto la censura è connaturata al sistema. Anche il paese più libero, o che si suppone più libero da un punto di vista dell'informazione, ha delle forme di censura ritenute necessarie dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ad esempio, contenuti pedofili sono censurati su internet. E forme di censura anche contro forme di comunicazione che sono considerate pericolose o criminali perché incitano all'olio. Ora è chiaro che la destra populizza sempre ha cercato di navigare in qualche modo sul filo di lana, su queste questioni, talvolta anche sfondando la linea, come ha fatto ad esempio Trump quando ha detto che i musulmani non potevano entrare negli Stati Uniti. Se io scrivessi una cosa del genere su Twitter o su Facebook, è molto probabile che il mio messaggio sarebbe censurato e probabilmente il mio account sospeso. Ora, è vero che questo è molto pericoloso perché può essere utilizzato anche per censurare forme di comunicazione o contenuti che invece non possono essere considerati in maniera oggettiva, pericolosi o criminali. Il primo amendamento della Costituzione negli Stati Uniti, esattamente il primo amendamento che garantisce il diritto all'espressione, offre alle compagnie che ospitano i contenuti anche il diritto di eliminare i contenuti che si evolviano. Quindi da un punto di vista legale non si può imporre o a Facebook o a Twitter di non censurare contenuti, perché sono compagnie private che come compagnie private hanno una serie di diritti legali che possono esercitare. Perché Facebook e Twitter non hanno bannato Trump prima di queste elezioni o prima di questi eventi? Perché avendo Trump avevano un pubblico interessato a Trump e quindi quelli erano occhi che guardano, eye bulbs, come li chiamano gli esperti di social media, ovvero occhi che stanno guardando, stanno scrollando e stanno vedendo anche contenuti pubblicitari da cui queste compagnie traggono profitto. Quindi in qualche modo quella è un po' la contraddizione di fondo, la contraddizione tra l'interesse economico di queste compagnie e poi l'interesse del pubblico di avere uno spazio di discussione che sia libero, ma al tempo stesso chiaramente che preservi la cittadinanza da contenuti che sono pericolosi, che sono incendiari, che sono tossici. La piattaforma Parler è una piattaforma molto piccola, è una sorta di clone di Twitter, una piattaforma a cui si è scritto l'altro giorno anche Salvini, che è diventato una sorta di spazio libero per ogni discorso razzista, in cui fondamentalmente quello che prometteva effettivamente questa piattaforma era libertà assoluta di espressione. Però dove di nuovo la libertà assoluta di espressione è una cosa ipocrita, perché sappiamo che la nostra sfera pubblica si basa sul fatto che alcune forme estreme di espressione sono tenute fuori della sfera pubblica. Il rischio, tuttavia, in futuro, è che se questo processo di migrazione di utenti di una certa fazione politica continua, ci troveremo di fronte a una sorta di balcanizzazione della sfera pubblica digitale. Secondo alcune persone la soluzione a questa situazione sarebbe nazionalizzare queste compagnie. Ora, chiaramente, se si nazionalizza una piattaforma in discussione, poi si solleva un altro problema, ovvero interferenza dello Stato sulla compagnia stessa e sul tipo di discorso e dibattito che avviene su quella piattaforma. Una soluzione di breve termine, di medio termine, è facilitare la creazione di più piattaforme, di più servizi, e soprattutto creare piattaforme che abbiano sede in Europa, che quindi rispondano anche i criteri sulla gestione dei dati che sono prevalenti nell'Unione Europea e che siano, come dire, più vicine ai cittadini che utilizzano queste piattaforme.